E' ancora ricoverata in prognosi riservata la giovane che intorno alle 1.30 della notte fra sabato e domenica è precipitata da sopra il muro di lungomare Town de Revel fino alla spiaggia sottostante, non sarebbe in pericolo di vita. E' stata approvata la delibera di istituzione della nuova provincia a Porta d'Italia, l'atto è stato votato nel corso del Consiglio Comunale ed è passato con il voto favorevole della maggioranza ma non quello dell'opposizione. Mentre a Civitavecchia la sensazione è che la politica sia con le mani in mano, non sapendo che pesci prendere e penda dalle labbra di Enel altrove si va avanti, è il caso di La Spezia dove è stato presentato un progetto. Non ha provocato fortunatamente alcun danno la tromba marina che si è sviluppata poco dopo le 9 a largo di Civitavecchia, il suo transito velocissimo ha determinato un incremento del vento e della pioggia e nulla più. Non è stato un weekend positivo per le squadre locali, l'unica a sorridere è la Centuncelle che è tornata al successo, sconfitte pesanti per ANC Civitavecchia e Nautilus. Bene, ancora una buona serata e andiamo subito con la prima notizia, non notizia purtroppo di cronaca. Si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli una ragazza Civitavecchiese di 17 anni, precipitata nella notte scorsa, nella notte fra domenica, sa sabre e domenica scusate, dal muro che costeggia il lungomare Town de Revel. È finita sulla spiaggia sottostante. La ragazza che stava festeggiando il suo compleanno è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere un ematoma cranico. E ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, la giovane Civitavecchiese di 17 anni, che intorno all'1.30 della notte tra sabato e domenica, è precipitata da sopra il muro di lungomare Town de Revel, fino alla spiaggia sottostante, mentre stava festeggiando il suo compleanno con gli amici. Oltre a diverse fratture che fortunatamente non hanno riguardato punti delicati come la colonna vertebrale, l'impatto dopo un volo di circa 6 metri ha determinato un grande ematoma alla testa, che è stato drenato nel corso di un lungo e delicato intervento chirurgico già nella stessa nottata tra sabato e domenica, dopo che l'ambulanza aveva trasferito la ragazza al Gemelli direttamente dal pronto soccorso del San Paolo. La 17enne è attualmente tenuta sotto osservazione, in sedazione farmacologica, ma non sarebbe in pericolo di vita. Come detto, la giovane stava festeggiando il suo compleanno con gli amici, quando per cause, ancora al vaglio dei carabinieri, è precipitata sulla spiaggia dal muro di fronte ad uno dei locali del lungomare. Si sono susseguiti momenti di grande paura, in primis dei suoi amici, ma anche di chi si trovava a passare nella zona, prima dell'arrivo dei sanitari del 118 e dei militari di via Antonio da Sangallo, che ieri mattina, insieme agli agenti della polizia locale, si sono recati nuovamente sul posto per approfondire alcuni dettagli delle indagini e chiarire fino in fondo la dinamica dell'incidente. Una cosa appare certa, non c'è stato dolo, quindi nessuno ha spinto la ragazza giù dal muro. Si è trattato quindi di una caduta accidentale, da chiarire se legata, per esempio, ad una abbravata o un gioco pericoloso, o ancora ad un eventuale stato di alterazione causato dall'assunzione di alcol. Ed il presidente del comitato di quartiere Town de Revele, Luana Dolgetta, prende a spunto quanto avvenuto a lungomare per esprimere la profonda frustrazione per un episodio che conferma i timori espressi da anni dai residenti. Nell'esprimere sincera vicinanza alla giovane ragazza e alla sua famiglia, con la speranza di una pronta e completa guarigione, Dolgetta ricorda che da anni il comitato che presiede segnala alle autorità la pericolosità generata dalla cosiddetta mala movida, soprattutto al lungomare. Abbiamo urlato nel silenzio, sottolinea, abbiamo scritto, parlato, sollecitato, ma le nostre parole sono rimaste inascoltate ed ogni fine settimana i residenti sono testimoni di comportamenti incoscienti e pericolosi che mettono a rischio la sicurezza di tutti, specialmente quella dei più giovani. Per il comitato di quartiere l'incidente di sabato scorso non è una fatalità, ma il risultato di una situazione che da tempo ha segnalato come fuori controllo ed è inaccettabile che si debba arrivare a eventi così gravi per richiamare l'attenzione di un problema che è sotto gli occhi di tutti. Dopo Santa Marinella anche Civitavecchia approva la delibera di istituzione della nuova provincia a Porta d'Italia. L'atto è stato votato questa mattina nel corso del Consiglio Comunale ed è passato con il voto favorevole della maggioranza, ma non quello dell'opposizione che ha invece votato contro. Alla fine la delibera è passata con 13 voti favorevoli e 5 contrari. E' stato approvato l'atto per la provincia Porta d'Italia con i voti favorevoli della maggioranza, come mai? Perché l'opposizione probabilmente anche spiegando con le sue ragioni non ha colto l'opportunità di questa delibera. Sicuramente è un punto d'inizio e non è un punto d'arrivo, l'ho spiegato anche nel mio intervento, siamo convinti che Civitavecchia meriti di essere o capoluogo di provincia o comunque territorio di primaria importanza in questa nuova nascente area territoriale con la nuova provincia. Sicuramente ci saranno ulteriori passaggi perché andranno definiti i rapporti, come spiegava anche il Sindaco e gli altri colleghi di maggioranza intervenuti, su quelli che le opportunità di una nuova provincia dovrà dare su tutto il territorio che è interessato dalla nuova provincia stessa. Civitavecchia non può lasciare l'area metropolitana e la città metropolitana di Roma perché ovviamente, ed è dimostrato dai fatti, siamo come dire un po' fanalino di coda rispetto alla centralità di Roma e dell'area metropolitana e quindi se lasciamo questo asset in questo momento è chiaro che dobbiamo immaginare che Civitavecchia abbia un ruolo primario in quella che è la nuova nascente provincia. Marco Piendibene è stato votato all'atto sulla provincia Porta d'Italia, atto approvato però voi avete votato contro, come mai? Ma sì abbiamo votato contro perché qui l'immagine che si dà è di una provincia autonoma di Civitavecchia che risolve tutti i problemi, in realtà non è così, è stata data alla cittadinanza per le cose che sono state scritte e dette, un'immagine diversa dalla realtà, intanto bisognerebbe fare un referendum per capire realmente che cosa ne pensano i Civitavecchiesi e non prendere decisioni in fretta e furia. Questa nuova provincia se dovesse nascere nella prima condizione di non avere tutti i finanziamenti che per esempio Roma Capitale, 168 milioni a tutti i comuni interessati a questa nuova provincia ha erogato in questi anni. Ci sono dei mutui che sono stati accesi, che ovviamente passerebbero come debito su questa nuova provincia, i fondi della nuova provincia sarebbero basati su imposte, diciamo che soprattutto molte, comunque per quanto riguarda l'immatricolazione delle auto sono soggetti ad essere carenti come è stato nel passato, mentre oggi quando ci sono problemi di questo tipo lo Stato interviene sulle città metropolitane e non lo farebbe sulle piccole province. Abbiamo votato contro perché è un provvedimento approssimativo, come tutti i provvedimenti che hanno caratterizzato questa amministrazione per il semplice motivo che si danno delle cose per scontato quando poi la legge e la norma dice tutt'altro, ad esempio loro hanno dato per scontato che Civitavecchia sarà il capoluogo di questa nuova provincia qua perché è baricentrica, però è facile riscontrare con la norma che di soldi o l'unico criterio che ti aiuta a individuare il capoluogo è quello del numero degli abitanti e il numero degli abitanti individua Fiumicino come capoluogo, quindi noi non vorremmo cadere dalla padella alla brace e quindi fare tutto questo lavoro per poi ritrovarci con gli stessi problemi. Fiumicino che tra l'altro sta facendo un porto croceristico che va in competizione con il nostro, quindi per noi c'è troppo fumo intorno a questa operazione e bisogna fare un po' di chiarezza, Civitavecchia deve essere protagonista e sicuramente non passare da una sudditanza all'altra. Non ha provocato fortunatamente alcun danno ma le sue immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social e di whatsapp, la tromba marina che si è sviluppata poco dopo le nuove allargo di Civitavecchia, il suo transito velocissimo ha determinato un incremento del vento e della pioggia che in quel momento stavano insistendo sulla città e nulla più. Purtroppo tra gli effetti del cambiamento climatico ci sono anche questi fenomeni che come può constatarsi con facilità sono notevolmente aumentati negli ultimi anni rispetto al passato. Questa mattina il comitato di gestione dell'autorità portuale ha dato il definitivo via libera. È stato firmato l'accordo di secondo livello del personale dipendente di Molo Vespucci, una vittoria di sindacati e lavoratori che adesso possono alzare le braccia al cielo. Vediamo. È uscito definitivamente dal freezer ed è stato finalmente servito a tavola l'accordo di secondo livello del personale dipendente di Molo Vespucci. Sindacati e lavoratori insomma possono alzare le braccia al cielo in segno di vittoria al termine di una partita che forse non si sarebbe dovuta neanche giocare. Questa mattina il comitato di gestione dell'ente che la scorsa settimana aveva deciso di non assumere alcuna decisione in merito all'intesa già sottoscritta dal presidente Musolino e dai rappresentanti della quadruplice CGL, CISL, Will e UGL è tornato sui suoi passi e ha dato il definitivo via libera. Termina così un'avvertenza che ha fatto rumore arrivando a superare i confini territoriali dell'ADSP, visto che era diventata di interesse nazionale. E chissà che da un male alla fine non sia nato un bene, nel senso che viene sancito una volta per tutte, un principio fondante, ovvero che i diritti acquisiti dai lavoratori non si toccano. Era il caso, come più volte spiegato, di una serie di indennità percepite da anni dalla stragrande maggioranza dei dipendenti di Molo Vespucci e che dopo essere stati interamente confermati nell'accordo siglato a dicembre 2022 erano stati messi in discussione dal nuovo presidente del collegio dei revisori, Ermanno Piteo, insediatosi nel frattempo. Ci sono voluti lo storico sciopero di cinque giorni consecutivi e gli interventi chiarificatori del Ministero e di Assoporti per fare chiarezza su una questione che doveva essere già chiara in partenza, ma tant'è. E ovviamente arrivano i commenti. Il sindaco tedesco e la consigliera delegata alle problematiche del lavoro Fabian Attic esprimono soddisfazione per l'esito favorevole della votazione, sostenendo che si tratta del riconoscimento delle giuste rivendicazioni che i lavoratori e organizzazioni sindacali avevano espresso e l'amministrazione ha contribuito dando un chiaro mandato affinché il Comitato di gestione desse il suo sì all'intesa raggiunta nell'interesse del buon funzionamento dell'ente di chi vi opera quotidianamente con grande professionalità. Può esserci un modello la spezia per Civitavecchia? La domanda sorge spontanea, questo è un punto interrogativo dopo l'annuncio arrivato nei giorni scorsi del futuro delle aree della centrale Spezzina che così come Torre Valdalica Nord ha ospitato per anni una centrale a carbone adesso dismessa. I progetti di Enel ma della stessa regione Ligure sono incentrati soprattutto sullo sviluppo della cantieristica alla luce del boom che sta conoscendo il settore. Mentre a Civitavecchia la sensazione è che la politica stia con le mani in mano non sapendo che pesci prendere e penda dalle labbra di Enel che finora non è andata oltre la conferma di un interesse su Civitavecchia e dei progetti di produzione incentrati in particolare sulle batterie di accumulo e sul fotovoltaico altrove si va avanti, molto avanti. È il caso di La Spezia dove fino a un po' di tempo fa era operante una centrale a carbone simile a quella di Torre Valdalica Nord. Ebbene nei giorni scorsi si è svolta una conferenza stampa nella quale è stato presentato un programma quanto mai interessante che prevede da una parte l'abbattimento di una ciminiera e da un'altra la messa a disposizione di 14 ettari di aree, alcune con affaccio a mare, per le quali si è aperta una procedura di presentazione di progetti. E pensa un po', in molti guardano la cantieristica in fase di enorme sviluppo in tutta Italia. Alla Spezia vanno veloci, tant'è che le aziende interessate a sviluppare progetti nelle superfici interessate dovranno presentare le proprie manifestazioni di interesse entro il 10 giugno. Nel corso della conferenza stampa Nicola Lanzetta, amministratore delegato di Enel Energia, confermando che l'Italia sarà la migliore nazione europea nello sviluppo e nella realizzazione di batterie su larga scala, ha spiegato che la SPA ha già allestito il team di esperti che valuterà le proposte che perverranno per le aree della ex centrale a carbone di La Spezia, messe a disposizione sulla base di precisi criteri e che si terrà conto dell'impatto occupazionale diretto ed indiretto generato. Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha rilanciato l'ipotesi della cantieristica nautica, sottolineando che c'è bisogno di spazio ed è opportuno che sia il mercato ad indirizzare al meglio l'utilizzo delle aree riguardanti la ex centrale a carbone. Ovviamente in una proiezione di mercato che consenta parità di accesso attraverso una manifestazione di interesse pubblica come quella fatta da Enel sotto la vigilanza delle istituzioni. Civitavecchia può contare sulla banchina utilizzata per oltre 15 anni per far attraccare le carboniere sulle aree retrostanti e non. Chissà che alla fine non possa tornare prepotentemente d'attualità il discorso riguardante un ulteriore sviluppo della cantieristica per yacht di lusso o meglio ancora la creazione di un poro per il refitting, insomma per la revisione delle navi da crociera. D'altronde siamo o non siamo quasi l'imeio armonno nel settore delle crociere? Allora vediamo se oltre alle chiacchiere vuote si riesce a fare qualcosa di concreto in grado di dare occupazione e sviluppo. Ed il candidato sindaco del Partito Democratico e di altre liste, Marco Piendibene, prende a spunto quanto avvenuto alla Spezia con Enel che di concerto con il comune della Spezia regione Liguria ha avviato le procedure di manifestazione di interesse per le aree della ex centrale, certificando con ciò l'intenzione di confermare la presenza strutturale nel territorio, di bonificare le aree strategiche perché prospicenti la linea di costa e di investire per realizzare due grandi batterie che serviranno ad accumulare l'energia prodotta dai pannelli solari. Civitavecchia sostiene, attende lo stesso segnale da Enel che peraltro non ha l'onere di dover acquisire le aree, anche esse di pregio e strategiche, in quanto sono già di sua proprietà. Dopo un intenso tour fra le comunità di Borgata Aurelia, il Faro e di San Gordiano siamo pronti per la prossima tappa San Liborio, lo annuncia il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Vincenzo Dantò che parla di opportunità unica per incontrare residenti, ascoltare le loro voci e condividere le loro proposte. L'appuntamento è in programma per mercoledì alle 18 alla Rotonda di San Liborio. Giovedì invece è in programma un incontro con tutti i candidati per Dantò, sindaco presso la Sala Savoi a Via Isonso. Ultimo appuntamento, almeno fino all'elezione del nuovo sindaco di Civitavecchia per la prossima rubrica Il Pensiero del lunedì. E proprio la politica, in particolare delle prossime elezioni amministrative, si parla nel servizio odierno. I riflettori stavolta sono puntati sulla destra e su quella che abbiamo definito come una carbonara con l'accordo fra Fratelli d'Italia e Lega. Sentiamo. Giravoce che da mercoledì sera, da quando si è capito che la piega era proprio quella, con Fratelli d'Italia e Lega costretti dalla carbonara romana a confluire su grasso candidato sindaco, gli altri papabili sindaci e le liste che li sostengono stanno festeggiando. E a pensarci bene, non hanno nemmeno tutti i torti. Quello che è uscito, che uscirà fuori, infatti, più che uno schieramento elettorale, e appare una succursale del centro del riuso e del riciclo, l'area in zona industriale dove civita vecchiesi per bene vanno a far morire materassi e mobili vecchi, oltre alle cianfrusaglie che non vogliono tenere dentro casa. Nel momento storico dove gran parte della gente chiede e invoca rinnovamento, la destra romana è riuscita a mettere in piedi una tragica un media che nemmeno nei tempi peggiori della Prima Repubblica, con una spartizione delle poltrone da far sembrare sbiadito il manuale Cencelli e con la riproposizione messa in primo piano di personaggi professionisti del cambio di casacca e del riciclaggio in liste diverse. Nel momento storico dove la gente, cittadini di Civitavecchia, non fanno certo eccezione, chiede persone che diano un segnale di novità e soprattutto di competenza, la destra si propone con lo slogan della continuità rispetto all'amministrazione che sta per finire il suo percorso dopo cinque anni che saranno ricordati, più per le continue lotte interne che per le cose fatte. Il sindaco tedesco, non confermato da una lega che avrebbe fatto felice Trilussa, il poeta romano che nelle sue rime decantava la lega del chi se ne frega, esce di scena prima incensato e confermato dal suo partito e poi messo alla porta con un'azione politica che definire penosa non rende pienamente l'idea. Gli appoggi esterni che stanno arrivando ai due partiti della destra chiariscono ancora meglio il concetto della continuità, con in primissimo piano i protagonisti dei balletti attorno al tavolo delle spartizioni del potere che hanno contrassegnato cinque anni di continui rimpasti. Si prevedono liste dove a spiccare saranno personaggi diventati l'emblema del trasformismo. In tutto questo il candidato sindaco Grasso si trova a dover risolvere una serie di conflitti di interesse enorme, ricoprendo il ruolo di capo ufficio stampa dell'autorità portuale e di editori di giornali, giornaletti, giornalini, radio e quanto altro. Ma anche questo, questo troppo rischia di trasformarsi in un boomerang per lui e per quanti lo hanno candidato. E già perché la gente ormai è stanca e sembra essersi sganciata all'orecchino dal naso. Ecco perché gli altri stanno festeggiando, politicamente hanno tutte le ragioni di questo mondo. Ci rivediamo dopo le elezioni, il pensiero del lunedì torna a luglio. La banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal maestro colonnello Leonardo Lacerra Ingrosso, si è esibita presso il nuovo terminal croceristico a Merigo Vespucci, nell'ambito delle iniziative per celebrare il 250esimo anniversario della Fondazione del Corpo. All'evento hanno partecipato, oltre al comandante interregionale dell'Italia centrale, generale di Corpo d'Armata Ignazio Gibilaro, e al comandante provinciale di Roma, generale di brigata Gavino Puzzu, numerose autorità civili, religiose e militari locali, nonché rappresentanze delle scolaresche e della cittadinanza. La banda musicale, dopo aver sonato alcuni brani del suo repertorio, ha intonato l'inno nazionale esaltando la solennità dell'evento. Nell'occasione il sindaco tedesco ha espresso parole di apprezzamento per l'azione espletata sul territorio dalle fiamme gialle, annunciando il prossimo conferimento della cittadinanza onoraria al gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia a testimonianza del profondo legame con le istituzioni e i cittadini civitavecchiesi. A CEA, Ato 2, comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l'efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone per mercoledì dalle 8 alle 20. Di conseguenza si potrebbero verificare mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione, precisamente in via Chille Montanucci, in via Francesco Flavioni, via degli Orsini, via Dolorenzo Milani, via degli Orti, via della Quercia, via Damiano Chiesa, via della Vite, via Alessandro Lamarmora, via Ugo Bassi, via Fratelli Bandiera, via Silvio Pellico, via Cicero Acchio, via Galileo Galilei, via Dandolo, via Pietronenni, via Gioacchino di Barba, Largo dei Mille, via Bartolomeo Pinelli, via Marana, potranno essere interessate dalla sospensione anche le zone che sono limitrofe a quelle citate. Predisposta è un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Achille Montanucci, con l'angolo che va verso via Dei Colli, via Achille Montanucci, angolo che va in via Galileo Galilei, e via Pietronenni, angolo via Galileo Galilei. Si svolgerà domani alle 18 alla libreria Dettagli, la di via Guglielmotti, la presentazione del libro La linea del silenzio, scritto da Gianluca Peciola. L'educatore e scrittore Peciola è stato assessore municipale, consigliere comunale e provinciale a Roma, impegnato sul sociale, in progetti di accoglienza, scolarizzazione di rifugiati e migranti, e tra i fondatori del collettivo territoriale Casetta Rossa. Bene, termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma rimanete con noi perché tra qualche istante ci sarà l'ampia pagina sportiva dell'Unlì. Iniziamo con la palla nuova femminile, la Nautilus perde lo scontro diretto contro la Lazio per la Serie A2 e dice addio all'opportunità di qualificazione ai play-off. Da Cilia la gara è terminata sul 6-4 per le padrone di casa. Si chiude così con un'amarezza la splendida cavalcata della Nautilus che aveva sperato di raggiungere il grande risultato dei play-off. Vediamo invece la palla nuoto maschile. Terza sconfitta stagionale per la NCC Vita Vecchia in Serie B. Alla Spezia i Rosso Celesti sono stati battuti per 10-8 dall'Erici. Ed è un po' che fa male alla squadra allenata da Aurelio Baffetti che ora rischia addirittura di perdere la vetta del girone nel segmento finale del regular season anche se era difficile trovare un risultato di grosso spessore contro una delle migliori formazioni del girone. Ritorno alla vittoria davanti al pubblico amico del Palagalli invece per l'ipertecnica. Centuncelle in Serie C. I biancorossi si sono sbarazzati con non senza difficoltà della Virtus Flaminio per 11-9. Nulla cambia in classifica, la zona play-off è sempre distante un punto e proprio per quanto riguarda la Centuncelle sentiamo l'intervista. Gianluca De Santis, Massimo Capuani, importante vittoria. Trovate la vittoria dopo il K.O. contro l'Antanes. Importante aver sconfitto la Virtus Flaminio. Siete partiti in razzo e poi siete riusciti a mantenere fino all'ultimo la prevalenza nei confronti degli avversari. Sì, sì, era importante tornare alla vittoria anche perché venivamo da una serie di vittorie e poi abbiamo interrotto il filotto ad Anzio contro il Latina. Oggi era importante riprendere il ritmo. La partita all'inizio si è messa bene, poi l'abbiamo fatta rientrare in gara. È stata un po' sofferta, però alla fine l'importante è portare a casa i tre punti e su questo ci siamo riusciti. Una squadra che è uscita a trovare la gestione migliore in un certo punto della partita, però alla fine si è rifatta sotto la squadra della Virtus Flaminio e hai dovuto combattere fino all'ultimo per portare a casa questa vittoria. Guarda, sì, vedendo la partita i ragazzi erano un po' tese a un certo punto. Poi piano piano si sono un po' ripresi, il problema è che abbiamo troppa fretta di voler concludere l'azione. Dobbiamo essere più tranquilli, sicuramente c'è stata un po' di tensione anche riguardo alla partita della settimana scorsa, quindi ce la stavamo portando dietro in questa settimana. I ragazzi però poi tutto sommato sono riusciti a stare più tranquilli e a portare, come ha detto Gianluca, i tre punti a casa che erano molto importanti, soprattutto per il morale. Ma Caponi squalificato in tribuna porta bene? Speriamo di sì, se serve a portare fortuna ci sto volentieri, tanto mi sento uguale pure da fuori se parlo, quindi l'importante no, scherzi a parte, l'importante è che ci sto durante la settimana con Roberto, che sto con i ragazzi, che vedono la figura mia di Roberto, insomma sul bordo, perché è importante che loro abbiano vicino alla società. Io faccio del mio, cerco di dare quello che posso dare. Certo, da giocatore è una cosa, all'allenatore è un po' più difficile, però quello che ho di esperienza come giocatore cerco di darlo un po' ai ragazzi, perché sono tutti ragazzi comunque giovani e comunque bravi ragazzi che si impegnano dal lunedì al venerdì, stanno lì, non molano mai, quindi un plauso va fatto a loro, noi facciamo quello che possiamo fare, ma la cosa carossa la stanno facendo loro, questo fino adesso tutto il merito lo do a loro, ma non perché mi voglio dire fuori da ogni cosa, è perché è giusto che sia così, sono loro che si allenano, sono loro che hanno famiglia, hanno le fidanzate, c'è chi ha anche i figli, lavorano fino a tardi e alle otto e mezza, otto e tre quarti di sera vengono ad allenarsi, quindi non so a questo livello in Serie C quanti lo avrebbero fatto e loro ci stanno sempre. Gianluca, ultimo mese tosto, adesso con tre partite in trasferta, andati in Abruzzo e l'unica in casa è col Fosinone che è in vetta. Sì, ultimo mese tosto, diciamo che la pausa ce la siamo già presa a inizio campionato, purtroppo, quindi ci troviamo a dover stringere la cinghia per cercare di colmare quelle due partite iniziali, più la gara esterna con il Fosinone e più la gara esterna con il Latila, che purtroppo a me sono stati tutti scontri diretti e questi pesano molto sulla classifica. Noi staremo lì, adesso siamo al terzo posto, cercheremo di vincerle tutte e le prime due dovranno stare col fiato sul collo, noi siamo lì pronti a prenderci in caso il posto playoff. Dalla palla noto passiamo al calcio, sconfitta con rimonta subita per il Civitavecchia. I neroazzurri sono andati capo a Pomezia contro i padroni di casa che hanno vinto per 2 a 1 nella terza ultima giornata di eccellenza. Emozioni condensate tutte nella ripresa, dopo pochi secondi a sbloccare la contesa è legnante del Civitavecchia, ma il Pomezia prova a rifarsi sotto e trova il pari al minuto 33 con Costantini. Cinque minuti dopo i neroazzurri hanno la grande chance di riportarsi avanti con Samuele Cerroni che spreca clamorosamente un calcio di rigore, tirandolo altissimo. All'ultimo secondo utile, ecco la beffa per i Civitavecchiesi che subiscono il definitivo 2 a 1 ancora ad opera di Costantini. Pallacanestro, prima vittoria esterna nella pool salvezza del campionato di Serie C e stessa nelle ultime 7 partite per la Stemar 90 cestistica. I rossoneri si sono imposti per 67 a 59 sul parchè della Fortitudo Anagni per 67 a 59 appunto al termine di un match che a partire dalla seconda frazione non ha avuto storia. La vittoria di sabato mantiene la Stemar 90 in vetta al girone in coibitazione con il Latina. Pallavolo femminile, la 3PC mantiene le speranze per la permanenza nella C regionale. Le ragazze dell'ASP hanno infatti espugnato ieri il parchè del Roma Volley Club imponendosi per 3 a 1 con parziali che sono stati di 24 a 25, 18 a 25, 25 a 12 e 18 a 25 naturalmente per le ragazze civitavecchiesi. E adesso si sono portate a due punti dalla lupa di Marte a quart'ultima della classe. Vittoria senza problemi nell'altro girone per la Comal Civitavecchia Volley Academy. Già prodata ai play-off alla palestra del Marconi ha avuto ragione per 3 a 1 di Sabaudia che doveva assolutamente vincere per entrare nell'otto delle squadre che si contendono la B2. Passiamo al rugby. Bella vittoria casalinga per la CRC che si è imposta sulla Capitolina per 19 a 16 alle Moretti della Marta nel campionato di Serie A. Nonostante la differenza di motivazione che poteva far muovere il punteggio verso i Romani la squadra allenata da Damiano Logreco e Stefano D'Angelo è riuscita ad imporsi e a trovare la vittoria che le consente di guardare al finale di stagione con molti più sorrisi. Veniamo alla palla a mano. La Flavioni finestra perfetta non si qualificherà per i play-off del campionato di Serie A2. al Palasport in Solera Tamagnini le ragazze allenate da Patrizio Pacifico hanno perso per 34 a 20 contro la Retusa. Quindi finisce qui l'avventura del giallo-blu con l'ultima gara utile solo per le statistiche. Completiamo il nostro telegiornale con l'ho che è andato come da previsione e come da pronostico il finale di campionato di Serie B per gli Snipers Tecno Alte e Neuroazzurri. hanno perso per 8 a 1 sullo Stilmat del Vicenza con la sfida disputata a Forlì. Gara 2 della semifinale play-off e quindi sono stati definitivamente eliminati dal torneo. Bene, termina qui il nostro telegiornale. Come detto naturalmente vi ringrazio per la gentile attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona sera.